Iniziamo ad assicurarci dei settori. Il nemico decontrolla molti. Iniziamo ad assicurarci dei settori. Iniziamo ad assicurarci dei settori. Lancio una granata! Spostarsi! Cercate nemici nell'area operativa. La maggior parte dei settori è sotto il nostro controllo. Voglio un aggiornamento. Allestisco le difese! I nostri faticano a controllare gli obiettivi, signore. Nemico neutralizzato! Atta inizia! Atta inizia! Atta inizioni! Il settore Delta è caduto in mano nemica. Mi ho sbattuto uno. Se non li fermiamo prenderanno tutti i settori. Segnale piazzato, in marcia! Continuate a cercare bersagli! Si sta lungo debolendo. Gli alleati stanno ingaggiando l'obiettivo Delta 1. Tieni! Ti serviranno colpi! Il nemico controlla il settore Alpha. Uno in meno! Le paro le difese! Spostiamoci raggiù! I nostri controllano la maggior parte dei settori. Gli alleati hanno il settore Delta. Li abbiamo indeboliti, ma c'è ancora molto da fare. Tieni! Tieni! 3-1, è sotto attacco! Hanno preso il settore Echo. 3-1, è sotto attacco! DELTA 1, sotto al secchio! Rinforzo il perimetro! Ricarico! Difesa in arrivo! Ricarico! Ricarico! Fortifico l'opposizione! DELTA 1, sotto al secchio! Faccio una granata! Indietro! DELTA 1, verso! Ripeto, DELTA 1, verso! Hanno appena preso il settore DELTA! Forte alleate, stanno catturando DELTA 1! Iniziamo ad assicurarci nei settori! Il nemico decontrolla molti! Niente! Non si può! Niente! Le nostre forze sono diventate sotto ogni aspetto! Sì Le truppe alleate stanno conquistando Delta 1. Prendiamo posizione lì. Allestisco le difese. Il nemico controlla il settore, bravo. Lascio dei rifornimenti! Una granata tutta per loro! Preso! Versaglio a terra! Che mira! Sono in crisi. Le forze nemiche sono state dimezzate. Beccatevi questa! Beccatevi questa! Miglioriamo le difese di questo posto! Il settore Delta è nostro! La maggior parte dei settori è sotto il nostro controllo. Stanno attaccando uno dei nostri obiettivi! Amico neutralizzato! Amico neutralizzato! Altre munizioni! il nemico attacca uno dei nostri obiettivi attacca uno dei nostri obiettivi il settore eco è sotto controllo quasi tutti i settori sono in mano nostra il nemico è in difficoltà continuate a tenere i settori un obiettivo è sotto attacco il settore alfa è caduto in mano nemica un attacca un attacca un attacca un attacca Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.